Noi facciamo parte di Confindustria da tanti anni e chiaramente riteniamo che questa sia un'iniziativa molto lodevole perché avvicina l'industria al proprio territorio. Riteniamo che sia una cosa oggi indispensabile fare capire che l'industria è un valore per il territorio e non è un problema come spesso in qualche anno è stato fatto passare. L'industria dà economia, non crea problemi se rispetta le regole e quindi riteniamo che la gente debba prendere coscienza di questo e quindi vogliamo dare il nostro piccolo contributo.